Occhi puntati su quanto è in programma e su quanto potrebbe accadere a Sala d'Ercole dove si gioca una partita su più tavoli. Quello del disegno di legge alle imprese, un provvedimento già esitato seppur con molto ritardo dalla Commissione Bilancio e adesso pronto all'esame dell'Aula, qui si innesta il secondo tavolo, quello della maggioranza parlamentare che il crocetta bis non ha dopo i malumori registrati nel PD e nell'UDC a seguito dell'accelerazione impressa dal governatore per definire il nuovo esecutivo. In ogni caso il provvedimento all'esame dell'Aula contiene anche una norma programmatica importante che riduce l'addizionale IRA per IRPEF già dal prossimo anno, misura questa che era stata sollecitata ad esempio da Confindustria Sicilia. Altro elemento è la riduzione del tasso di interesse sul mutuo che passa dal 4,4% al 2,7%. Nella conferenza dei capigruppo che ha stabilito il calendario dei lavori d'Aula, l'approvazione dovrebbe arrivare entro domani sera. C'è poi un altro provvedimento che aspetta l'assemblea regionale ed è la manovra finanziaria bis. Qui dobbiamo usare il condizionale. La conferenza del capigruppo ha stabilito che il testo sarà in aula il 6 maggio prossimo ma potrebbero esserci nuovi intoppi. Pesa infatti la manovra con la quale il premier Renzi ha destinato 80 euro in più nella busta paga di chi ha uno stipendio medio-basso. A carico della regione siciliana ci sarebbero 70 milioni di euro da accantonare come compartecipazione all'equilibrio di finanza dello Stato e 130 milioni di spesa da congelare per l'ulteriore stretta sul patto di stabilità. Numeri che rendono complicato per il governo Crocetta portare in aula la manovra bis da 350 milioni. I troppi dubbi sull'impatto del decreto Renzi sui conti della regione hanno già fatto saltare la seduta della commissione bilancio che si sarebbe dovuta riunire questa mattina proprio per iniziare l'esame di questa manovra.